Nonostante le difficoltà che da tempo affliggono la sanità calabrese, esistono professionisti di alto livello che fanno la differenza, garantendo cure di eccellenza senza dover abbandonare la propria terra. E questa è la testimonianza della famiglia Vincenzo Loggiacco, un 92enne di Gioia Tauro, che ha recentemente affrontato un delicato intervento chirurgico per un tumore maligno allo stomaco presso l'ospedale annunziata di Cosenza. L'operazione, durata sei ore, è stata eseguita dal primario di chirurgia generale il professor Bruno Nardo, una delle eccellenze sanitarie della regione. Nardo, originario di Vibbo e con una lunga carriera alle spalle presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, è tornato in Calabria per dirigere il reparto cosentino, portando con sé competenze di altissimo livello e metodi chirurgici all'avanguardia, inclusa la chirurgia robotica mini-invasiva. La famiglia di Vincenzo Loggiacco, storico commerciante del quartiere Monacelle di Gioia Tauro, ha espresso profonda gratitudine per la cura e l'attenzione ricevuta. Siamo stati accolti con grande umanità e professionalità. Il professor Nardo e le sue equip ci hanno permesso di affrontare un momento tanto difficile con fiducia e serenità. Oggi nostro padre è tornato a casa e non possiamo che ringraziare chi ha reso possibile tutto questo. Dunque una speranza per la sanità calabrese. L'intervento del professor Nardo rappresenta una luce di speranza per la sanità, spesso bersaglio di critiche per carenze struttulari e organizzative che spingono molti cittadini a cercare cure fuori regione. La sua scelta di tornare in Calabria dopo aver lavorato in uno dei poliospedalieri più prestigiosi d'Italia è un segnale positivo per il futuro della sanità.